Come ho annunciato ho lanciato questo servizio ma è la prosecuzione di quello che ho fatto sempre in tanti anni di attività giornalistica, ora lo faccio nella veste di consigliere comunale, raccolgo le segnalazioni dei cittadini con ovviamente lo scopo di andare a risolvere quei problemi. Mi hanno chiamato da Paolo VI, siamo nelle vicinanze di Via della Liberazione, precisamente tra Via della Liberazione e Piazza della Liberazione, un'area molto estesa, qui c'è un tombino che è letteralmente sprofondato, letteralmente collassato da qualche mese e nonostante le sollecitazioni, le segnalazioni non v'è stato nessun intervento da parte dell'amministrazione comunale. Cosa aspettiamo sindaco Melucci, assessore ai lavori pubblici Mattia Giorno, assessore al patrimonio Gianni Azzaro? Perché quando parliamo di patrimonio, questo è anche patrimonio, le strade sono patrimonio del Comune di Taranto. Queste sono strade pubbliche in cui transitano le macchine, transitano le persone, transitano i bambini. Qui è una situazione di inaudito e grave pericolo. Un tombino non solo sprofondato, ma si è completamente distaccato, si è completamente sollevato. Guardate, se qualcuno va a togliere il tombino, il coperchio per capirci, qui succede una tragedia perché si va a sprofondare, si va a finire sotto, poi succedono le disgrazie e poi piangiamo i morti. E poi andiamo a individuare, a ricercare le responsabilità e i responsabili. È normale una cosa del genere? È normale, ma cosa ci sono i cittadini di serie A e i cittadini di serie B? Sì, veramente io sto vedendo che a Taranto sono diventati tutti i cittadini di serie C, perché il degrado oramai imperverso ovunque, è al centro, è alle periferie. Ma qui, ripeto, è una situazione che mi è stata rappresentata per telefono, per cui poi sono venuto in prima persona a fare un sopralluogo. Vedete cosa c'è? Stiamo scherzando, guardate. Cosa facciamo? Balliamo? Melucci, balliamo? Cosa facciamo? Il ballo di Melucci? Il ballo di Mattia Giorno? Guardate, guardate. Sentite il rumore? Dobbiamo aspettare qualche tragedia? Beh, muovete il culo dalle sedie, datevi da fare. Questo vale sia per sindaco ed assessori come soggetti politici, ma vale anche e soprattutto per gli organi tecnici, per gli uffici tecnici. Interveniamo o no? Eh? Interveniamo o no? Quest'area è assolutamente non illuminata di sera. Immaginate i rischi che vi sono per le macchine, per le auto, ma soprattutto per le moto. Non vedono il tombino e ci vanno a finire dentro. È a rischio la pubblica incolumità. E vi dico di più. Immaginate in una giornata di pioggia cosa succede. Una moto che passa, una macchina che passa, ma soprattutto, ripeto, i rischi sono per i veicoli a due ruote, quindi maggiormente instabili. Evidentemente si sta aspettando che arrivi la tragedia. Non c'è altro da dire. Io comunque, proprio per una questione di sicurezza, dovrò notiziare e avvertire immediatamente i vigili del fuoco perché intervengano, perché qui è a rischio la pubblica incolumità. Ma si sa, un sindaco assente, che cosa ne sa? Forse non è mai venuto in vita sua qui Melucci. Lui conosce il tragitto Taranto-Crispiano, preso e portato in macchina ovviamente dall'autista del comune. Ha preso e accompagnato e portato qui. Forse manco col navigatore ci sa arrivare. Non sa proprio che cosa accada qui. Un sindaco assente, un sindaco politicamente fantasma. Ma vedete, non voglio caricare di responsabilità solo il sindaco, è proprio tutta la macchina amministrativa. Perché tu devi raccogliere, se non direttamente tu sindaco, ricevi, c'è qualcuno che riceve le segnalazioni? C'è qualcuno che dovrebbe smistare a chi di dovere queste segnalazioni? Non accade nulla di tutto ciò. Vergogna. Taranto è una città non amministrata che è stata ridotta in condizioni da terzo mondo. Vergogna ancora una volta. Grazie.